ciao a tutti ragazzi allora avete visto la puntata di un posto al sole di martedì primo ottobre 2024 sono successe un buon po di cosette e poi abbiamo avuto il finale scoppiettante veramente con le scene veramente molto 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 belle allora facciamo un piccolo riassunto perché non ha visto l'episodio per chi vuole ripercorrere insomma e speriamo di non dimenticare troppe cose allora mi riferisco naturalmente in particolare la vicenda dell'aggressione di roberto ferri che quella che sta tenendo banco e insomma ci sono tante cose da dire allora cominciamo un po con la questione di ida e diego allora abbiamo visto che nei punti precedenti la serata che roberto ferri è stato è stato aggredito e ida era il vulcano che stava lavorando a certo punto ha chiesto di andare via prima perché aveva un dramma di testa concesso quando diego è tornato a casa ha incontrato viola e c'erano una polemette a casa raffaele e viola ha detto vado da ida che sarà in camera riposare e loro hanno detto ma veramente da non c'è e quindi da questo momento cioè poi dopo una volta che diego ha saputo dell'aggressione di roberto ferri ha avuto il sospetto che magari potesse essere stata lei a fare qualcosa che non doveva fare e quindi l'ha chiesto nella puntata successiva l'ha chiesto direttamente a ida dicendo ma non è che c'entri tu nell'aggressione di roberto perché la scusa che mi hai detto che sia voluto andare a vedere il piccolo tommaso la casa famiglia che non l'hai manco visto non potevi neanche entrare neanche dalla finestra e visto perché era tardissimo mi è sembrato una scusa non è che mi stai nascondendo qualcosa lei si è arrabbiata senza dare spiegazioni non mi credi però non dando ulteriori spiegazioni quindi in teoria dovremmo rimanere sul fatto che lei è andata davvero la casa famiglia cerca di vedere il piccolo tommy disperata magari sono fatto questa cosa cosa succede nel frattempo succede che nella puntata di lunedì abbiamo visto che c'è stato il risveglio di roberto abbiamo intanto filippo e marina che sono in ospedale sono andati subito all'ospedale marina un comportamento un po strano ripoli ha parlato tanto con serena però insomma parlandone hanno convenuto che marina si è capace di tutto però che sia stata lei ad aggredire roberto non si credono insomma anche anche se insomma ha scoperto che roberto era andato da lara non non dovrebbe essere stato lei da come si comporta anche se la polizia sta pensando se la principale iniziata per la polizia e lei perché insomma hanno visto che è la macchina di roberto è stata seguita dalla macchina di marina quindi lei poteva essere benissimo sul luogo del dell'aggressione anche se lei continua a negare anche con filippo e serena continua a negare insomma e loro le credono quindi insomma diciamo che è amareggiata è abbastanza giù di morare per il fatto che roberto è stato credito ed è in coma per tutto il periodo brutto che hanno passato visto che lui era esclusa un po dalla dalla sua vita piano piano la stava allontanando perché non voleva combattere insieme a lui per riavergli piccolo tommy e sono alcuni periodo veramente brutto però insomma a marina fatto ha fatto capire a filippo serena che non c'entra niente nel frattempo appunto abbiamo avuto roberto che si è svegliato e il primo a vederlo è stato l'ispettore torre perché insomma ai medici ha dato disposizione che non doveva vedere nessun altro ma solamente lui per cercare di avere la prima deposizione di roberto in base a quello che si ricordava una volta appena sveglio infatti abbiamo la scena con l'ispettore torre e che con roberto fa tutto barbarato della mascherina roberto fare che si è appena svegliato è molto provato perché si vede ancora insomma e niente prova a fare un po di domande però roberto dice di non ricordarsi bene cosa sia successo si ricorda sì che l'ispettore dice ma si ricorda che è andato da lara lui dice sì mi ricordo che stavano anche sono andato lì però non mi ricordo nient'altro cosa succede poi succede che finalmente possono entrare familiari e quindi ci sono filippo e serena tutti belli contenti e felici del fatto che insomma che roberto sia svegliato e da una parte invece c'è marina molto più indietro molto seria che non dice niente filippo serena saluto roberto quello con se ne vanno gli lasciano da soli e quindi insomma c'è marina che veramente molto molto titubante su cosa dire cosa non dire e roberto invece insomma fa capire che le chiede scusa per tutto quello che gli ha fatto in questo periodo per averle esclusa un po averla allontanata della trattata malissimo per il fatto che anche lei non voleva combattere per tommaso aveva ragione era una battaglia ormai persa invece mi sono incapolito voleva assolutamente vincerla perché voglio vincere sempre e adesso insomma ho bene in mente quello che voglio fare che insomma io voglio stare con te e basta e quindi insomma si presume che poi alla fine lascerà perdere anche la questione di tommaso però insomma sembra un riappacificamento tra i due però marina non dice tantissimo dice sì o dice no è contento oppure no non dice molto veramente è stato molto provato la situazione comunque insomma il fatto è contento che almeno filippo credono sul fatto che non sia stata lei credibile poi anche roberto non dice niente quindi finora sappiamo che non è stata lei ok poi abbiamo un'altra scena con roberto interessante in ospedale sul fatto che c'è l'infermiera che gli sta lo sta aiutando a bere così lui e si sente un po bruciare la faccia e mi sento un po in fastidio al viso e lei gli dice sono i graffi che c'è in faccia da lì lui si ricorda la scena cioè di quando è andato da lara che gli ha fatto capire lo ha capito che l'ara voleva riformare con lui la famiglia felice con lui e tommaso e insomma che stava un po andando fuori di testa allora capito che era meglio mollare il colpo smettere di fare il suo gioco di seduzione per convincere a cambiare posizione e lara quando ha capito questa cosa qua l'ha aggredito e l'ha graffiato senza aggredirlo giù quando era giù fuori per andare a prendere la macchina e allora a questo punto quando si ricorda questa cosa qua chiede all'infermiera se è possibile richiamare l'ispettore torre perché vuole dirgli questa cosa qua e quindi da qui sarà indagata in modo un pochino più scrupoloso anche l'ara e sappiamo infatti che poi anche l'ara sarà preoccupata di questa cosa andrà in ospedale probabilmente per parlare con roberto ma incontrerà marina e ci saranno gentili e non vedono di vedere la scena tra marina e lara perché sono sempre bellissime e quindi ci abbiamo tutte queste cosette qua nel frattempo abbiamo l'ara che è preoccupatissima perché preoccupata per il fatto che roberto in ospedale è stato aggredito quindi abbiamo anche lei come sospettata numero uno naturalmente visto che l'aveva già aggredito in casa magari andato giù a picchiare e vuole parlare con solo ma ora perché ha bisogno di parlare con qualcuno di sfogarsi di insomma avere delle rassicurazioni della persona che insomma è stata vicina in questo periodo però sono ma ora si farla in gare non la sorella che risponde al telefono dice che ritiro spirituale e che non è raggiungibile appena sarà raggiungibile la chiamerà ma la scena cambia e abbiamo la sorella che va in una stanza di una delle suore e ci abbiamo suor ma ora quindi non so ma ora non è il ritiro spirituale oppure non è in un'altra città ritiro spirituale ma il ritiro spirituale nella sua cella nella sua stanza non so bene qual è il termine e lei gli dice la sorella dice a sua mano guarda che l'ha cercata loredana che ha bisogno di parlarne e lei dice adesso prima poi la chiamerò però non dica c'è dica che non sono disponibili appena sono disponibili da chiamare ok e questo già un atteggiamento strano perché di solito è sempre la prima a correre da loredana dall'area insomma per darmi una mano invece in questa in questo momento la vediamo che non vuole parlare con lara insomma dalla scena capiamo che è tormentatissima veramente un grande tormento e che ripercorre quello che è successo e da qui scopriamo che l'aggressione a roberto ferri l'ha fatta suor ma ora rivediamo la scena dove roberto sta per salire in macchina sento rumore si gira e vede solo ma ora e sua umana che le dice perché ancora qui da loredana la lascia in pace perché la tormenta e roberto ferri il suo modo di fare solito dice ma lei che cavolo vuole da me non esiste che lei mi disse quello che io devo fare io faccio quello che mi pare e sono ma ora cerca di prendere le difese di una redan di lara loredana e l'anima attormentata non ha bisogno di essere presa in giro da lei e basta attormentarla basta usarla insomma di quale dirà e roberto sempre spressante ma che cosa vuole solo ma una dice l'ora sta facendo questo suo percorso di redenzione e roberto le ride in faccia dicendo persone come l'ara non cambieranno mai quindi non ha bisogno di questo percorso di redenzione ha bisogno di lei perché tanto la sua anima nera rimarrà sempre nero sono una roba del genere e insomma invece sua mano si crede molto al fatto di aiutare lara di a redimersi quindi ciasc'è rabbia proprio di questa cosa qua e quando roberto manda a spendere e si gira per andare alla macchina si vede che lei proprio presa da questo momento di rabbia con suo bastone quello che porta sempre e aggredisce roberto colpisce roberto che quindi abbiamo roberto con un po che cade insomma la scena che abbiamo visto nell'episodio passate quella qui capiamo che è stata suor ma ora come hanno detto in tantissimi sul web e come io speravo tanto perché veramente il colpo di scena veramente interessante riguardando una sopra della comanda non pensiamo alla realtà no so stiamo guardando una sopra che è stato il colpo di scena bellissimo che veramente i tantissimi si stavano aspettando e bello 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 insomma vediamo sua mano veramente tormentata che vanno in ginocchiatoio per pregare si vede che proprio sta chiedendo perdono per quello che ha fatto e quindi secondo me in questo periodo non ha voluto vedere lara perché ha capito che anche lei ha avuto il suo momento di debolezza diciamo e quindi non è in grado di aiutare lara che anche lei ha bisogno di aiuto di qualcuno ed una spalla su cui piangere su cui confidarsi però in questo momento anche suor ma ora mi sa che ha bisogno di qualcuno che l'aiuti e naturalmente lo cerca cerca il conforto nella preghiera e nel perdono del nostro signore e insomma vediamo un attimo adesso cosa succederà però bello mi è piaciuto molto lo sviluppo di questa puntata mi è piaciuto l'epilogo per riuscire a capire chi è stato ad aggredire roberto ferri che insomma ma ora è una donna che ha sempre tenuto a testa a roberto non avevano una paura di parlarne di guardare negli occhi di parlarne apertamente bello è caduta in tentazione però insomma il colpo di scena ci sta mi dispiace un pochettino che si sia venuto a sapere così in fretta chi era che è stato ad aggredire roberto ferri perché siccome si poteva tirare un pochettino per le lunghe la polizia non ha neanche preso in considerazione ida che o magdalena io pensavo che fosse magari pensavo a un colpo di scena ancora più grosso mettendoci in mezzo magdalena e speravo insomma che le indagini andassero ancora più avanti insomma almeno una settimanina almeno qualcosa in più per indagare un pochettino più a fondo su dove era stata ida che magari ha detto una bugia a diego non è stato da casa fagliene è stata da qualche altra parte oppure e poi metterci in mezzo oppure magari la più gente c'era in mezzo più la cosa secondo me si faceva più intrigante però insomma vabbè insomma gli autori hanno scelto di di svelarci subito che è stato e adesso vedremo un attimo come andranno avanti le cose intanto avremo a breve avremo il confronto lara marina sono sempre belli e poi più avanti si sa che son maura parlerà con lara e cercheranno di capire solo di andare andranno insomma non andare alla polizia probabilmente auto denunciarsi e cercheranno di capire insieme come fare a riuscire da questa questione un attimo cosa succederà sono curiosa tanto bella complimenti a son maura roberto bellissime le scene fra loro la pazzesca marina pazzesca da veramente bella questi episodi mi sono piaciuto veramente tanto speravo durasse un pochettino di più l'indagine va bene dai vediamo un attimo cosa succederà secondo voi cosa succederà cosa vorreste che accada ai vari personaggi iscrivetevi i commenti mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube lus della squadra perché abbiamo tantissimi contenuti tantissimo contenuti su un posto a sole ma anche su tantissimi altri argomenti e poi noi ci vediamo il prossimo video ciao a tutti da aliena aliena del canale youtube lus della squadra ciao